Ciao a tutti ragazzi, oggi è il 21 maggio, giovedì, ho dormito tutto il giorno, oggi nuovo lavoro, perché apparentemente qua in Belgio è la festa dei lavoratori, in conseguenza ho dormito, mi sono riposato per bene, sono andato stamattina verso le 11, ho fatto una buona colazione, simile a quello che avete già visto nell'episodio precedente, ho aggiunto uova, straccetti di pollo, solita carota e succo. Niente, sono le 5, mi sto preparando per andare ad allenarmi, oggi giorno stacchi e panca e come al solito prima di andare faccio un pre-workout, mi sto con sali minerali e creatina e oggi in Belgio fa molto caldo, sono quasi 30 gradi fuori e se fai vedere è una giornata bellissima. Bene, noi ci vediamo dopo in palestra, sono davvero carichissimo all'allenamento. Bene, noi ci vediamo dopo in palestra, sono davvero carichissimo all'allenamento. come true, stay down till the end, need me? I need them, whole team gon' make M's, no time for fake friends. 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 Vabbè! Bones crave your skin, temptation within, mistakes ignite the silence Lime as creep, while you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating I'm waiting, and always hesitating, kryptonite desires set my heart afire Heart on fire, set my heart afire Heart on fire, set my heart afire Connect the dark, straight to the start of intoxicating wands Blink the retouch, this sound was whispering in my back Set my heart afire So leave it all behind Wanna live a life I've kept spitting at my feet and forced me down a dead-end street When all I had went up in flames, burning all the dark remains I cover up every part of my skin, oh, cause I don't like the person within, oh, I know I'm the one to blame All I can do is take the shame, oh, do we say goodbye, refuse to question why Aiuto a lubrificare le articolazioni quando si fa attività sportiva, di conseguenza non abbiate paura di mangiare i grassi, soprattutto se sei natura Poi, per dare più stupore, questa è... Allora, sono nel mezzo del editing del video, il precedente l'ho quasi finito E niente, oggi ho finito di allenarmi E questo è il mio post-workout meal Sono 350 grammi di riso cotto Con 200 grammi di carne macinata E 100 grammi di straccetti di pollo E per buttare giù tutto ho il mio solito cranberry juice E niente, finisco di editare E ci vediamo alla prossima